Gestione delle acque e valutazione paesaggistica su questi aspetti servono ancora approfondimenti a quanto emerso al termine della conferenza dei servizi dedicata al discusso biodigestore di Pinarolo Po che dovrebbe essere realizzato in via Casa Bellotti. Sul primo aspetto, quello dell'acqua, le richieste di chiarimento riguardano in particolare il fatto che rispetto ai 5.000 metri cubi d'acqua annui annunciati, per far funzionare l'impianto ne servirebbero il doppio, ovvero 10.000 che dovrebbero quindi essere ricavati da un pozzo di approvvigionamento. Più acqua comporterebbe quindi un aumento dell'impatto sulla falda idrica. Sull'aspetto paesaggistico dovrà invece esprimersi la commissione provinciale dedicata dopo che sono state richieste integrazioni. Il comune di Pinarolo Po ha chiesto di aumentare il livello di garanzie per l'impatto ambientale, ha spiegato il sindaco Giuseppe Villani, aggiungendo poi che gli aspetti relativi all'inquinamento acustico, olfattivo e quelli relativi alla distanza dalle abitazioni sarebbero stati affrontati con risposte soddisfacenti. Un nuovo incontro atteso per il prossimo 11 novembre, quando considerati pareri favorevoli di enti come Vigili del Fuoco, ARPA e ATS, non è escluso che arrivi il Via Libera ad un impianto che ha visto la ferma opposizione di comitati che hanno avviato anche una raccolta firme e di comuni limitrofi come Bressana, Bottarone.